Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Mayra e oggi andiamo avanti con The Sims 4 In questo episodio scopriremo i risultati degli appuntamenti di Nicola Quindi andiamo a vedere i punteggi totali e chi sarà la prima ad essere eliminata Iniziamo con Alice, i suoi punteggi sono 4, 5, 5 e 5 per un totale di 19 Poi abbiamo Malia con 3, 5, 3 e 2 per un totale di 13 Serena ha preso un 3, un 4, un 3 e un 5 per un totale di 15 E per quanto riguarda Jin abbiamo un 2, un 3, un 1 e un altro 1 per un totale di 7 Di conseguenza la ragazza che ha ottenuto il punteggio più basso è Jin e lei sarà la prima ad essere eliminata Ma non finisce qui perché vi lascio un nuovo sondaggio in cui dovrete decidere direttamente Chi sarà la seconda ad essere eliminata tra Alice, Malia e Serena Diciamo che con questo sondaggio degli appuntamenti avete votato di fatto l'appuntamento Ma non sapevate i punteggi, i risultati, nulla Quindi non avete scelto in modo diretto chi eliminare Invece per questa volta per la seconda eliminata dovrete proprio scegliere Mi raccomando scegliete bene perché poi ci sarà la finale tra le due rimaste Adesso direi di ritornare in gioco e andare a dire a Jin che purtroppo dovremmo restare solo amici Ed eccoci qua da Nicola Quindi andiamo da Jin e le diamo la brutta notizia Uh dovrebbe andare anche al lavoro Eccola Sì ovviamente entra in casa nostra Ma guarda purtroppo dobbiamo darti una bruttissima notizia Chiedi di essere solo amici Che fra l'altro lei si siede sempre qua Sì? Oh Nicola e Jin hanno deciso di lasciare raffreddare la loro relazione romantica E infatti si è abbassata completamente Sono rimasti soltanto amici Eh già è andata così Adesso possiamo anche chiederle di tornare a casa Eh non così malamente però no non volevo Poverina È andata? Arrivederci E quindi abbiamo eliminato la prima delle quattro ragazze che stanno cercando di conquistare Nicola Mi raccomando in descrizione il sondaggio Decidete chi sarà la seconda ad essere eliminata Adesso torniamo da Camilla perché l'ultima volta l'abbiamo lasciata che si stava trasformando in un vampiro Ed eccola qua la nostra Camilla Intanto vorrei tornare a Forgotten Hollows Perché non può sperimentare i suoi poteri vampireschi in mezzo agli umani Quindi andiamo E questa volta andremo qui Ho infatti creato un edificio che sarà il ritrovo notturno dei nostri vampiri Eccoci arrivati C'è un po' di gente qui davanti perché per selezionare questo edificio come ritrovo Ho dovuto impostarlo come se fosse un museo Quindi un sacco di gente si Ecco sono spariti tutti Ah la nostra vampira che corre Però ogni tanto ci capiterà di vedere gruppi di umani qua davanti Perché appunto loro vorrebbero entrare a vedere questo museo Ma in realtà il museo non esiste Quindi ho bloccato i cancelli in modo che soltanto i nostri sim possano entrare Però dai potrebbe essere una buona idea Così avremo una riserva infinita di sim che ogni tanto vengono qui davanti E potremo bere magari il loro plasma Vi mostro l'edificio che ho creato Aspettate che manca una parte di tetto Eccola qui Una casa gotica e antica In questo giardino morto E uno stagno con questa nebbiolina sopra Vi mostro poi all'interno dove abbiamo Un piccolo salottino dove leggere, sedersi e chiacchierare Da questa parte c'è il caminetto dove riscaldarsi nelle fredde sere vampiresche Da questo lato c'è invece l'organo E la nostra Camilla dovrà imparare a suonarlo Visto che è amante della musica Da questo lato c'è una piccola cucina Che può sempre servire anche ai vampiri volendo E al piano di sopra invece ho piazzato tre bare Per il nostro gruppo di vampiri Ci sono poi vari oggetti decorativi Una postazione dove sistemare il proprio aspetto Ma penso che i vampiri non possono riflettersi E da questa parte abbiamo ancora due poltrone E un piccolo bagno Questo quindi sarà il ritrovo dove i nostri vampiri Potranno riunirsi e provare i loro poteri di vampiro Quindi entriamo subito Vai qui Camilla Attraverso questi cancelli molto inquietanti Quasi quasi fa più paura questa che la casa del conte Ed eccoci qua Poi andiamo a vedere la forma oscura da vampiro Perché ogni vampiro ha la forma umana Che è questa qui E poi si può scegliere la forma di vampiro Io per Camilla ho scelto questa Eccola qua Si può personalizzare tutto Dalle orecchie al viso Poi ci sono strane cicatrici Il trucco Il colore degli occhi Il tipo di denti Gli abiti I capelli Cioè tutto si può personalizzare Per la forma oscura dei vampiri Però la nostra Camilla Non può essere da sola Soprattutto se vorrà Un giorno scontrarsi contro il conte Per decidere chi è il vampiro più potente Quindi ci servono degli alleati E stavo pensando alla vampira Che ci ha trasformato E a suo fratello Visto che fra loro il conte C'è già un po' di inamicizia Così ho creato un secondo club Che si chiama Ragazzi perduti Come il film Mi sembra dell'87 Un film vecchissimo Sui vampiri E qui andremo ad aggiungere Lilith E Caleb Però in tre Contro il conte Che è il vampiro più antico della città Secondo me siamo pochi Potremmo provare a scegliere Altre due persone Però dovremo poi trasformarle E queste persone E queste persone sono Giovanni E Rosa Visto che hanno Una personalità un po' Malvagia e oscura Potrebbero essere molto adatti Per fare i vampiri Quindi Aggiungiamo anche loro E poi Iniziamo un raduno Così dovrebbero venire tutti qui Tanto vi mostro che ho messo anche come Attività per il club Suonare l'organo Leggere In generale Bere il plasma Usare i poteri vampireschi E meditare Perché c'è anche la Meditazione oscura Sono arrivati? Però forse devo sbloccare Aspettate il cancello Per Blocca la porta Allora Consenti l'accesso a Allora L'allegra Con bricola Che sarebbe praticamente L'altro L'altro club Con tutti gli adolescenti E in questo cancello Invece Non mi ricordo più cosa ho fatto Consenti l'accesso a Consenti l'accesso a E qui Consentiamo L'accesso a Entrambi Faccio così perché Altrimenti mi entrano tutti Perfetto Ma stanno arrivando Inizia a raduno Ah ok adesso è iniziato Non era iniziato prima Vabbè Comunque è arrivato Il nostro Giovanni Puoi venire dentro Vai qui Sei teso Dintorni Stantissimo Materialisti Diventano un po' tesi Se non hanno ammirato Qualche loro acquisto Di recente Ed ecco che è arrivata Anche Rosa Quindi vi piacerebbe Diventare Un vampiro Dove sta andando lui Dove vai Ma vieni qua Vai qui Cominciamo con Rosa Vediamo un po' Cosa bisogna fare Per trasformare Una persona In un vampiro Allora Parla Parla del club Intanto Ma lui sta arrivando Se io dico Siediti insieme Magari arrivano Anche Lilith e Caleb Oh Sì Sono arrivati Con un tempismo Perfetto Aspetta Aspetta Eccolo Questo volevo Bevi plasma Chiede il permesso Di bere Costringe Una bevuta profonda Costringe Una piccola bevuta Allora Chiedendo Un sim Il permesso Di bere Si placherà Un po' La sete Senza che Altri sim Reagiscano Negativamente Bevendo Profondamente Da un sim Si placca Di più La sete Ma altri sim Potrebbero Reagire Negativamente Bevendo Da un sim Si placca Un po' La sete Ma altri sim Potrebbero Reagire Negativamente Adesso Come siamo Con la sete Sta calando Però Potremmo Resistere Ancora un po' Ah Una cosa Ci sono anche Tre nuove Aspirazioni Per i vampiri A lei Ho scelto Di essere Una vampira Buona La racconto Aspetta Mi era venuta fuori Una notifica Il club È ottimo Per passare Del tempo Assieme Bene Grazie Però come si fa A trasformarla Forse devo Aumentare un po' L'amicizia Ah si Aspettate Non hanno L'amicizia alta Adesso ho visto Che fate Voi litigate No Non dovete litigare Dovete creare Un club Entusiasmati Per le emozioni Del furto Dai su Che devo Trasformarvi Anche perché Poi ci vorranno Un paio di giorni Per la trasformazione Dove sta andando Lei Chiede la sua giornata Oh Si invita a suonare Porgi omaggi Rallegra Ricorda La vita mortale Fai una battuta Sui vampiri Ma potete Magari venire qui Aspetta Sì Sì Ti chiacchiera qui Qui come va Lui potremmo provare A fare amicizia Con loro due E chiedergli se Ci trasformano Dove costruisce Gli oggetti Il prezioso vampiro In una banca Del sangue Va bene Parla del club No Dove sta andando Cosa gli ho chiesto Chiedi di davvero Di valore Ecco la che sta arrivando No Non sta arrivando Sì Bravissima Dai che dobbiamo fare amicizia Racconta Una storia buffa Come siamo messi con l'amicizia E ho salita un pochino Però Non posso ancora trasformarla Chiede la carriera Ma è un adolescente Quindi al momento Non ha un lavoro Chiede la sua giornata Come si può fare Impara a conoscere Dove è andata Ma Cosa succede qua Complimento Chiedi Fichi Fichi Andiamo se ora Sul vampiro No Bevi Ma penso Si possa trasformare Qualcun altro In un vampiro E entusiasmati Non altri sim Chiediamo sempre Della giornata Qua come va Oh bravo Hai aumentato bene L'amicizia L'ho dello stile Vampiresco Dai Questo possiamo Dirlo Complimentati Rallegra Vediamo se mi viene fuori Chi no Non chiedere Della storia Di vampiri Eccolo qua Chiedi di trasformarti In un vampiro Bene Con lui ce l'abbiamo fatta Dove è andata Rosa Ah sto andando A leggere ancora Ah ricorda Lamentati Della luce solare Vediamo intanto Il morso Di questo vampiro Accetta? Sì Ha accettato Ah però La sua forma Oscura È uguale Alla forma Umana Credo Non è cambiato Lui Credo di dover Bere infatti E adesso qui Dovremmo aspettare Un altro paio Di giorni Vediamo se Ce la facciamo Anche con Rosa L'amicizia È aumentata Bene Ricorda La vita Mortale La mente Delle luce Chiedi di passare Del tempo Insieme Vampiro Bevi Non penso Che bevendola Trasformiamo Altre scelte State a vedere Che non posso Trasformare Gli altri No Davvero E non c'è Allora facciamo così Proviamo a bere Un pochino Vediamo cosa succede Anche perché Lei ha sete Che sta succedendo Ah Anche lei Si è trasformata Dovrebbe accettare Perché siamo amiche Sì Grazie Certo Camilla Ti offro il mio polso Dovrebbe essere Una bevuta leggera Questa In teoria Ah Basta Basta Troppo Ok Quindi questa era La bevuta Leggera Diciamo Vediamo un po' qui Soddisfazione sanguinaria Il plasma Ha fatto proprio centro Abbiamo aumentato bene La nostra sete Ottimo Però non mi lascia Trasformarla Mi sa Mi sa che dovrò Dovrebbe essere Dovrebbe essere Dovrebbe essere Noi Sì Vi farò anche lui adesso ma cosa si può fare? spettegola sui vampiri antichi vediamo se ora posso chiedergli qualcosa rimungina sull'essere vampiri adesso oggi poter ricordo la vita mortale vampiro chiedi un addestramento vampiresco oh wow aspettate questo voglio proprio vederla fatte dare lezioni di abilità vampiresche ah questa è la levitazione brava ah manca poco al compleanno eh si tra un po' i nostri adulti no i nostri giovani adulti diventeranno adulti credo mi stia aumentando questo eh si qui dovremmo aumentare di rango da vampiro inesperto a vampiro minore bene vediamo se ce la facciamo no non è andata bene questa volta riproviamo ah basta abbiamo finito ah grazie comunque che che state facendo voi due no sta vivendo il sangue di giovanni accidenti morso recende aia perché mi fa male per essere stato morso da un vampiro e quindi adesso sveniamo mi sa di sì riprenditi dal prosciugamento del plasma no mi sa che lui ha fatto una bevuta di quelle profonde no povero giovanni no poverino è andata malissimo aspetta perché volevo provare ad avere un'altra lezione vampiro ah non si può deve aspettare prima di farsi dare altre lezioni ah ok perché volevo provare ad aumentare di rango ah e se io invece provo a fare una cosa vai su vieni qua ma si è mossa più velocemente o era solo la velocità no era solo la velocità ok perché si dovrebbe poter utilizzare la meditazione oscura forse per aumentare con i punti oh sì credo proprio che sì ah e mi ricarica anche l'energia bene quindi l'energia si ricarica o meditando o dormendo aumenta fatti carico di una debolezza cosa vuol dire premio seguente eh vorrei scoprirlo però non saprei come aumentare i punti eh mi risistemati i libri per cortesia intanto lui si è risvegliato bene tresciate vampiro no non posso fare altro ah sapete dove sta andando lui è finito il raduno per caso no c'è ancora il raduno forse per aumentare questi si possono fare delle ricerche riordina i libri leggi qualcosa no mi sa che mi serve un computer no non ce l'ho un computer e con il telefono eh no mi sa che nemmeno con il telefono si possono fare le ricerche vabbè vediamo cosa possiamo sbloccare con cinque punti ah ci sarebbero questi abbiamo rileva la personalità scopri ogni dettaglio dei tratti di un altro sim non mi sembra utile forma di pipistrello acquisisci la capacità di volare ovunque come pipistrello questa assolutamente si lancia un'allucinazione fai che un altro sim parli da solo benvenuto eterno acquisisce il potere di bloccare e sbloccare porte nelle case degli altri sim ma come non solo Camilla può entrare in un'abitazione senza inviti ma con un modesto apporto di energia vampiresca può bloccare e sbloccare porte secondo convenienza e questo cos'è studente dell'occulto usa meno energia vampiresca Camilla sta iniziando a studiare la sua energia vampiresca e i vari modi in cui può essere utilizzata ed è in grado di ottenere lo stesso effetto impiegando meno energia ah ok no io sbloccherei questa del vampiro ok me l'ha sbloccata credo come si fa si 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 così e poi sblocchiamo quella delle porte e ne avrei ancora uno vabbè sblocchiamo anche questo siamo a posto si abbiamo tre nuovi poteri potremmo provare quello delle allucinazioni su dove è andata rosa ah l'ho persa ah è qui bravo causa un'allucinazione ah eccola che comincia a parlare da sola scaccia l'allucinazione ah possiamo anche farla finire posso? si ok ha finito poverina e poi aspettate perché abbiamo anche il potere di trasformarci in un pipistrello come si fa? movimento continuo come un pipistrello ah però non è successo nulla disattiva il movimento continuo ah forse quando mi sposto è tipo la velocità eccolo vola qui vola qui come un pipistrello insieme no si può fare tutti insieme tipo così ah sta diventando mattina eccola dove è andata? ah ma si teletrasporta forse ah c'è il sole c'è il sole vola qui come un pipistrello insieme ah si lei vuole in cielo e poi ce la ritroviamo nel posto in cui le abbiamo detto dove sta andando adesso? dove va? no è andata a casa mannaggia è finita il raduno dov'è? ah no ma sono andati a scuola non sono tornati a casa e il raduno? e il raduno infatti è terminato accidenti però io volevo andare da rosa perché vorrei trasformare anche lei in un vampiro ok proviamo a chiamare Camilla ho aspettato che diventasse Sara per poterla invitare a casa e vediamo se può trasformarci ah come non può farci visita al momento ma è Sara ah forse c'è ancora il tramonto aspettiamo magari le 8 ok ci siamo chiamala eccola qua eh siamo qui però noi oh propone un piano falle no proviamo a chiedere a lei della storia dei vampiri ma penso che non saprà dicci nulla non abbiamo fatto ricerche eh infatti puoi trasformarci? entusiasmati eccolo qua chi è di trasformarsi in un vampiro no perché no mi dispiace rosa non ho il potere di trasformare gli altri ah ecco perché non mi lasciava non abbiamo il potere e se io provo a chiamare lui allora vediamo se può venire eccolo esprimi ammirazione vediamo se può trasformarci lui eccolo qua chi è di trasformarsi oh finalmente riusciamo a far trasformare a rosa ed eccola qua anche lei sarà la prossima vampira di famiglia va bene direi che possiamo fermarci qua con questo episodio magari mandiamo tutti a casa chiedi di andare via e chiedi di andare via forza tutti a casa grazie perfetto nella prossima parte aaaah dobbiamo spostare le tombe e allora nel prossimo episodio iniziamo spostando tutte le nostre tombe al cimitero e poi vedremo la trasformazione di rosa e giovanni e sempre nello stesso sondaggio in cui voterete chi eliminare tra alice maglia e serena vi faccio scegliere anche la forma oscura di rosa e giovanni scegliete voi il loro look e mi sa anche che fra poco dovremo festeggiare i vari compleanni dei nostri giovani adulti visto che prima mi è comparsa la notifica ma sapete che forse non vi ho mai mostrato le modifiche che ho fatto a questa casa perché quando sono morti fabio e elena ho eliminato questa stanza e ho praticamente spostato qui la stanza di adriana e claudio e al piano di sopra avevamo anche la stanza di nicola se vi ricordate l'ho eliminata e ci ho messo qui le camere della ragazza provate a venire un secondo qui sediti abbiamo sempre qua una specie di corridoio vedete e poi ci sono le due stanze questa volta sono delle stanze diciamo adatte a due adolescenti quindi le ho un po' modificate ho messo armadi specchi iscrivani una poltrona un po' di tutto insomma adatte a due adolescenti quindi direi che possiamo fermarci qua con questo episodio lasciate un bel commento se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video ciao da te